Il Natale che non ti aspetti, l'evento diffuso organizzato dalle Proloco di Pesare Urbino e sostenuto dalla Regione Marche, conclude la sua edizione da record con 300.000 visitatori che per sette settimane fino all'Epifania hanno visitato il territorio provinciale, caratterizzato da 18 borghi coinvolti e animati dagli eventi organizzati dai mille volontari delle Proloco in collaborazione con la provincia. Un grazie veramente dal profondo del mio cuore lo devo rivolgere ai nostri volontari, alle nostre famiglie che si impegnano con amore e passione sacrificando il proprio tempo libero. È un lavoro di squadra che abbiamo messo in campo da qualche anno con la Regione Marche. Il Natale che non ti aspetti ha tirato l'attenzione anche delle trasmissioni televisive dell'Etere raggiungendo la promozione dei canali nazionali e locali. Un successo da record dunque che nello specifico ha registrato 60.000 presenze a Gradara, 36.000 a Candelara, 1.000 camper per la festa nazionale della Befana di Urbania, 20.000 presenze per il Natale a Monbaroccio, 7.000 a Frontone dati in crescita ad Urbino dove le vie dei presepi hanno accolto 5.500 visitatori arrivati nella città ducale per conoscere le 300 natività collocati in oltre 60 punti espositivi. Dato positivo rilevato anche per il magico Natale a Fossombrone e eventi non stop anche per il Natale pesarese, mentre ottime presenze per il pubblico del Natale più di Fano che ha segnato più volte il tutto esaurito in piazza 20 settembre, così come Capodanno ed Epifania. Vorremmo incrementare sempre di più questi eventi negli anni a venire aumentandone il numero e fare in modo che questo territorio diventi veramente un Christmas Land, quindi il Natale che non ti aspetti in un territorio che diventi il territorio del Natale, la terra del Natale per gli anni a venire. Il ricco programma del Natale che ha coinvolto la provincia ha portato anche degli ottimi risultati per le strutture ricettive.